Allora senz'altro il nostro matrimonio fra virgolette col teatro pubblico pugliese è di qualità ed è fedele questo matrimonio non è soggetto a turbative di separazioni o peggio di divorzio per cui ringrazio perché abbiamo avuto quest'anno delle interlocuzioni proprio basate anche sulla parola d'onore dell'amministrazione che per alcuni mesi c'ero solo io e io non valevo, non avevo le funzioni che aveva il commissario che aveva l'istituenda giunta comunale per cui c'è stato proprio un atto di fiducia e proprio anche di amore già che abbiamo usato la metafora coniugale nei nostri confronti mantenendo comunque le date che avevamo informalmente predisposto e programmato per cui il cartellone è di grandissima qualità non possiamo aggiungere ulteriori lodi e complimenti agli artisti che si avvicenderanno sulla scena foggiana è un grosso grazie anche per aver creato il filone foggiano quindi scena foggiana ci inorgoglisce particolarmente perché poi sappiamo che i nostri talenti arrivano alle scene nazionali e sono super apprezzati e super lodati grazie